Durante il corso di questo video andremo a riscoprire le prestazioni della prima CPU uscita sul mercato consumer ad avere 16 core e 32 thread, il Ryzen 9 3950X. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro rettendaro pazzo. Oggi siamo qui con questo Ryzen 9 3950X per scoprire come si comporta nel 2024 la CPU più potente di fine 2019. Sì, perché questo Ryzen 9 3950X con i suoi 16 core e 32 thread e architettura Zen 2 era all'epoca il processore più potente e infatti costava anche abbastanza, parliamo di un MSRP come prezzo di 749 dollari che per un processore di fascia consumer insomma non sono pochi. Prima di proseguire col video ovviamente vi invito a iscrivervi qua sotto al canale se ovviamente non lo avete già fatto attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche così da non perdere vienesse un video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Detto questo vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi e l'altro invece per l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon quindi state tranquilli per quanto riguarda garanzia e assistenza sempre al top. In ogni caso passano sempre delle ottime offerte quindi mi raccomando iscrivetevi perché fate un favore a voi e al vostro portafoglio. E infine vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram e sul mio canale di TikTok e ora riprendiamo con questo Ryzen 9. Uscito un po' in ritardo rispetto alla line-up dei Ryzen della serie 3000, questo Ryzen 9 3950X si presentava come l'alternativa high-end da parte di AMD in risposta anche a buona parte dei processori high-end desktop di Intel quindi gli i9 Cascade Lake X di cui abbiamo visto anche un video circa un annetto fa sull'i9 10920X. Questo però era un processore che andava su schede madre di fascia consumer ma aveva prestazioni molto spesso superiori in confronto ai processori di fascia high-end. Quindi ecco avevamo una CPU che aveva vantaggi di avere una piattaforma più economica, anche costi effettivamente ridotti ma con delle prestazioni che sbaragliavano la concorrenza dovuto al fatto che avevamo un'architettura che all'epoca era sicuramente molto all'avanguardia e aveva un enorme numero di core e di thread. Tutto questo avvenne prima dell'uscita degli AMD Threadripper basati su architettura Zen 2 e quindi effettivamente questo Ryzen 9 si presentava come l'unica alternativa su questa architettura per chi aveva bisogno di estrema potenza con appunto tantissimi core. Con l'unica pecca dovuta al fatto che eravamo su una piattaforma desktop consumer che consisteva nel fatto di avere meno linee PCI Express e quindi ecco per alcuni tipi di lavori poteva non essere una scelta ottimale. Però ecco con questo video vi ripeto andiamo a vedere poi nei benchmark e nei test al giorno d'oggi come si comporta e vi anticipo già che ecco in applicazioni multicore questo processore rimane proprio una bestia. Scendendo nel dettaglio delle specifiche tecniche ci troviamo di fronte a una CPU che presenta un'architettura a chiplets quella Zen 2 cioè a tanti piccoli DAI e non a un DAI monolitico come nel caso di Intel e questo consentiva appunto l'inserimento di tanti più core. Infatti all'interno di questo processore abbiamo due CCD cioè due piccoli DAI che all'interno contengono ognuno 8 core e 16 thread con 32 MB di cache. Quindi andando a sommare le due cose abbiamo effettivamente questi 16 core 32 thread con 64 MB di cache di livello 3 e una frequenza in boost dichiarata di 4,7 GHz. Io vi dico subito che almeno dai test che ho effettuato non sono mai riuscito a vedere questo tipo di frequenza probabilmente devo fare dei test anche con hyperthreading disabilitato ma in questo caso insomma siamo andati ad utilizzare la CPU così come era senza andare a toccare questo parametro quindi effettivamente insomma questa frequenza così elevata non siamo riusciti a osservarla. Più o meno ecco le frequenze vi dico subito a stock sono di 3,9 GHz in un carico multi core quindi su tutti i core e tutti i thread con una frequenza base di 3,5 GHz come riportato da specifica e sui singoli core si arriva a osservare un boost di 4,35 GHz al massimo 4,4 forse però non tanto di più quindi ecco questa dichiarazione di 4,7 GHz non so bene sotto quali parametri si potesse osservare però ecco questi sono i risultati che abbiamo ottenuto dopo i vari test. Per finire con le specifiche tecniche prima di passare alla piattaforma di test abbiamo il socket compatibile con questo processore che in questo caso è ovviamente il socket AM4 uno dei più famosi e diffusi nel mercato dell'hardware informatico. Inoltre poi ecco come TDP abbiamo un TDP di 105 Watt che in realtà poi non ricalza il consumo per il fatto che il consumo di questa CPU a stock su tutti i core con un carico ecco multi core è di circa 130 Watt 150 Watt poi se ovviamente andiamo a fare overclock che andremo a vedere ovviamente anche nel corso di questo video anche magari un breve tutorial su come eseguirlo parliamo di consumi che quasi sfiorano i 200 Watt intorno ai 180-190 Watt che sono un pochino più altini e effettivamente ecco per gestire un processore del genere soprattutto con consumi in overclock dobbiamo avere sicuramente un dissipatore adeguato e una scheda madre abbastanza calzata e quindi ecco per ricongiuggermi e parlare della piattaforma di test come vedete qua abbiamo una scheda madre su socket AM4 in questo caso è una MSI Tomahawk basata sul chipset B550 ed è una scheda madre effettivamente molto carrozzata che riesce a gestire senza particolari problemi ecco questo Ryzen 9 io vi dico i primi test avevo provato a farli anche con la mia vecchia X370 scheda madre del 2017 che non era sicuramente pensata per gestire processori ecco così energivori e infatti durante le prove di overclock mi si era anche spenta per il fatto che ecco le fasi di alimentazione probabilmente erano arrivate al limite di temperatura e quindi il processore si era andato a spegnere in questo caso le fasi non hanno avuto nessunissimo problema e insomma il dissipatore comunque che ho utilizzato che è un Deepcool da 240 mm quindi un dissipatore a liquido all in one è riuscito ecco a gestire questa CPU a 4,2 GHz su tutti i core come RAM abbiamo 16 GB di RAM G.Skill Trident Z da 3200 MHz CL14 quindi ovviamente RAM DDR4 come alimentatore poi abbiamo un EVGA GQ 1000W e come scheda video abbiamo l'NVIDIA RTX 3090 in customizzazione dell'EVGA For The Win 3 Ultra quindi direi ora di passare al tutorial di overclock e poi ai benchmark partendo col tutorial di overclock in questo BIOS della MSI nella sezione avanzata andiamo a impostare 42 come CPU ratio che ovviamente verrà moltiplicato per il base clock di 100 MHz per darci 4,2 GHz totali settiamo poi il profilo XMP delle RAM 3200 MHz CL14 e nella sezione voltaggio nel mio caso con l'override mode quindi un voltaggio che è fisso a 1.275V e il risultato essere il tutto molto stabile andiamo poi nella sezione di AMD overclocking a disabilitare il precision boost overdrive visto che abbiamo fatto noi l'overclock e ora direi di passare ai benchmark di produttività partendo con Cinebench R23 abbiamo in multicore a stock un punteggio inferiore rispetto all'overclock questo perché appunto le frequenze operative su tutti i core a stock sono inferiori mentre in single core abbiamo un vantaggio a stock proprio per il fatto che sui singoli core boosta di più quando rimane a stock stesso comportamento anche su Cinebench 2024 anche se i guadagni con l'overclock sono inferiori perché passiamo da 1.267 punti a 1.294 e il single core anche qua si va a perdere un pochino da 82 punti a 76 7-Zip scompressione a stock con 88.000 punti contro 89.000 quindi un guadagno alla fine molto risicato stessa cosa anche in decompressione 186.775 punti contro 189.469 blender open data 4.0 quindi benchmark di rendering score 367 punti virgola 98 a stock e qui abbiamo un incremento abbastanza consistente a 385 in overclock insomma poi in percentuale alla fine non è comunque elevatissimo però comunque qualcosa su blender bmw demo a stock 94 secondi e per il tempo di rendering in overclock scendiamo a 86,78 quindi anche qua effettivamente qualcosina si guadagna facendo l'overclock su tutti i core corona benchmark 1.3 in questo caso tempo di rendering praticamente identico 56 secondi a stock contro i 55 dell'overclock passando a Geekbench 6 abbiamo dei punteggi multi core a stock di 10.329 punti praticamente identici a quelli dell'overclock però col fatto che in single core a stock manteniamo un punteggio più alto di 1811 punti contro 1737 dell'overclock su DaVinci Resolve col Puget Benchmark abbiamo a stock 2060 punti contro 2067 dell'overclock quindi insomma non parliamo di differenze abissali quindi alla fine quasi tanto vale tenere questa cpu a stock su V-Ray 6 come ultimo benchmark di produttività vediamo un incremento alla fine abbastanza considerevole per l'overclock in termini di punteggio 23.300 contro 24.800 v-samples passando ai giochi abbiamo Control testato in full hd ovviamente con settaggi di digital foundry e vediamo anche qua insomma come vedremo un po' vi anticipo già in tutti i giochi una diminuzione del framerate medio e insomma da 166 fps a 163 alla fine siamo anche sul margine di errore e in questo caso però l'1% low era un pochino più alto alla fine con l'overclock quindi anche questo potrebbe essere un risultato interessante su Alan Wake 2 alla fine siamo limitati dalla scheda video perché appunto è un titolo praticamente GPU limited e quindi ecco arriviamo a 115 fps che è più o meno il limite della 3090 con questi settaggi che è sempre full hd con il DLSS e settaggi ottimizzati di digital foundry e passando a un gioco ben più ottimizzato abbiamo Death Stranding full hd e settaggi maxati quindi a stock ecco in averaggio framerate facciamo 154 fps contro 152 quindi risultati molto simili ma che ecco rimane in vantaggio sempre il risultato a stock e anche l'1% low anzi qui è virtualmente identico quindi non vediamo grosse differenze Fortnite capitolo 5 stagione 2 testato in full hd e settaggi medi abbiamo a stock un framerate medio di 150 fps contro 156 quindi l'overclock sembra essere in vantaggio anche se qui effettivamente il framerate può variare abbastanza tra una run e l'altra e ne abbiamo riprova anche dall'1% low che è un po' più basso con l'overclock anche se di poco quindi anche qua parliamo di risultati molto molto simili su God of War full hd e settaggi alti stock 150 fps e averaggio framerate invece per l'overclock 144 quindi anche qui l'overclock è un pelino più basso non chissà quanto l'1% low è praticamente identico in ogni caso ecco parliamo di due esperienze di gioco sicuramente super godibili e passando a cyberpunk testato con settaggi di hardware unbox in full hd ovviamente con densità della popolazione al massimo e abbiamo ecco un risultato a stock che è un pelino migliore dell'overclock come un percento low ha anche stessa cosa e quindi ecco abbiamo dei risultati anche qui mi ripeterò per l'ennesima volta molto molto simili tra di loro passando ora a the finals testato in full hd con dlss quality e settaggi medi con ray tracing medio facciamo a stock 83 fps contro gli 86 dell'overclock quindi in questo caso abbiamo un micro vantaggio in overclock però ecco l'1% low risulta essere di un pelo superiore ma veramente pochissimo presente identico a stock quindi ecco anche qui due esperienze di gioco praticamente uguali resident evil 4 remake full hd e preset grafico priorità alla grafica anche qua insomma frame rate medio che è praticamente identico 130 fps contro 126 e un 1% low che è un pelino più alto a stock ma anche qui sono due esperienze di gioco identiche in sostanza e su counter strike 2 testato in full hd settaggi medi a risoluzione nativa quindi senza fsr abbiamo ecco un frame rate medio che è un po' più alto per il fatto ecco che abbiamo delle frequenze a stock che sul singolo core bustano un po' di più e detto questo direi ora di passare alle considerazioni finali eccoci qui ragazzi dopo aver visto i benchmark su questo ryzen 9 da 16 core che dire io sono rimasto sicuramente impressionato e stupito dalle prestazioni che ha questa cpu in multi core perché praticamente in tutti i casi risulta essere superiore anche per esempio al mio ryzen 7 7300 che ecco non ci dovrebbe stupire perché parliamo ecco di una cpu in questo caso 8 core 16 thread di nuova generazione questa pur essendo di due generazioni fa però ecco mantiene 16 core che non sono sicuramente pochi quindi per questo ecco un processore del genere col vantaggio di poter essere montato su schede madri comunque di vecchie generazioni che teoricamente dovrebbero essere più economiche poi anche qui ci arriviamo alla questione dei prezzi è un buon vantaggio è una buona cosa e si presenta ecco come uno dei migliori upgrade che possiamo fare il lato cpu sul socket am4 ecco magari uno dei lati in cui questa cpu non eccelle è il gaming però questo è normale perché parliamo di un'architettura di base del 2019 quindi effettivamente ecco ci sta che questa cpu non sia alla pari ecco di processori di nuovissima generazione però abbiamo visto prestazioni ancora più che adeguate per goderci tutti i titoli AAA ha almeno 60 fps magari a parte qualche raro caso di gioco mal ottimizzato però ecco nei test che abbiamo fatto oggi insomma abbiamo visto ecco prestazioni più che adeguate da quel punto di vista se poi ovviamente vogliamo avere un'esperienza di gioco ad altissimo refresh rate in alcuni casi competitiva ovviamente non è questa la cpu su cui dobbiamo puntare però ecco per chi vuole questa cpu invece per fare dei tipi di lavori come abbiamo visto rendering anche magari editing video o comunque insomma dei test che vanno a sfruttare questo processore su tutti i core da tutti i punti di vista ecco magari anche con macchine virtuali perché alla fine con 16 core si può fare tanta roba e ecco secondo me è da tenere in considerazione per il fatto che le prestazioni sono ancora al giorno d'oggi sicuramente molto rilevanti per quanto riguarda invece i risultati in overclock vi dico stavolta ecco non sono rimasto troppo impressionato perché alla fine sì siamo riusciti ad aumentare la frequenza ma praticamente di 300 MHz su tutti i core che effettivamente sì tutti i core sono stati aumentati di 300 MHz ma questo si traduce poi in un consumo effettivamente più alto sul fatto poi che dobbiamo utilizzare una scheda madre e un dissipatore ben cansati per gestirlo e poi anche sul fatto che in gaming non guadagniamo chissà quanto comunque nelle applicazioni che vanno a sfruttare un singolo core perdiamo qualcosina quindi vi dico secondo me tanto vale tenere la stock volendo sì si potevano provare a fare dei test in undervolt che purtroppo ecco non sono andato a fare per questo video magari in quel caso qualcosina si poteva guadagnare dal punto di vista dei consumi e temperature ma in ogni caso ecco il risultato secondo me non cambia ci troviamo di fronte a una cpu che considerando gli anni che ha è ancora un'ottima alternativa nel mercato dell'usato ecco per fare tutti gli upgrade su socket AM4 certo ovviamente c'è da tenere in considerazione il fattore prezzi perché questa cpu attualmente nel mercato dell'usato si trova intorno ai 300 euro che non sono pochi effettivamente però se consideriamo che l'alternativa ecco per avere un processore più pompato e tutto è di andare a spendere magari sì 350 euro su un Ryzen 9 Zen 4 per esempio 7900 7900X che sono 12 core ma ovviamente come prestazioni poi vanno effettivamente di più sì l'alternativa non è male ma il fattore costo non è indifferente perché sono cpu che di base ok sono nuove ma vi costano di più beh poi dovete tenere in considerazione comunque l'acquisto di una scheda madre da almeno 150 euro per quanto riguarda la B650 32 giga di RAM di DR5 da un 120 euro circa quindi basta poco ecco per andare su un budget effettivamente molto più alto e il vantaggio di tutti i Ryzen su questo socket è il fatto che se voi avete già una scheda madre compatibile comunque magari già abbastanza pompata potete andare a spendere soltanto i soldi per la cpu e insomma l'upgrade l'avete fatto senza ecco dover andare a cambiare tutta la configurazione quindi ecco se state cercando un upgrade per il vostro socket m4 senza andare a cambiare tutto questo è sicuramente uno dei processori da tenere in considerazione insieme al fratello maggiore Ryzen 9 5950X che diversamente da questo ecco presenta l'architettura successiva l'architettura Zen 3 però ecco altre differenze poi non è che ce ne siano più di tante quindi effettivamente se trovata secondo me a 250 euro o anche meno ecco in quel caso risulta essere un best buy praticamente assoluto sui 300 euro invece sì se avete già tutta la scheda madre e la configurazione pronta dipende da quello che volete fare però potrebbe convenire mentre ecco se pensate di farvi un pc da zero con questa cpu vi dico subito ecco secondo me lasciate stare perché ecco ci sono alternative migliori per quanto riguarda processori nuovi e anche oggi siamo arrivati alle conclusioni di questo video io spero che vi sia piaciuto se così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e vi ricordo di scrivervi se ancora non lo avete fatto ovviamente lasciatemi anche un commento su cosa ne pensate di questa cpu se l'avete avuta in passato se l'avete o se invece avete intenzione di acquistarla proprio per fare un upgrade detto questo io vi consiglio due video che se non avete visto vi invito a guardare il primo è quello sul Ryzen 9 fratello minore di questo il 3900X testato appunto con varie applicazioni che abbiamo visto anche oggi mentre il secondo video che vi consiglio è quello sul mio Ryzen 7 il 7700 quindi su una nuova architettura e su una nuova scheda madre cioè il socket AM5 detto questo è tutto io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi